Il Chieti ritorna in Serie D dopo un anno di purgatorio. A Capistrello l'ultima tappa nel Camino Trionfale, nel mini-torneo di eccellenza, dominato dalla formazione di Alessandro Lucarelli alla seconda promozione sulla panchina del Chieti. I teatini strappano il pass per la D al Comunale di Capistrello, infliggendo un pesante quanto bugiardo 3-0 rovetani dopo un primo tempo da fuochi d'artificio. Primi 23 minuti al Cardiopalma, il Chieti parte a Razzo con un doppio tentativo di Capitan Mariani vicino al vantaggio all'ottavo con una conclusione disinnescata da Fanti. Sul ribaltamento di fronte il primo colpo di scena, Forti in uscita a terra De Roccis per Cravotta di Città di Castello. È calcio di rigore, dal dischetto Forti si riscatta e ipnotizza Franchi. Cinque giri di lancetta e il Chieti sgombra l'orizzonte con un prodigio di Fabrizi che disegna un arcobaleno imprendibile per Fanti, ma il Capistrello non ci sta a fare da vittima sacrificale e al ventesimo guadagna un altro calcio di rigore con Di Girolamo che costringe Lucarino al fallo. Cambia il tiratore ma non il risultato, va Fantauzzi che alza il pallone e c'entra in pieno la traversa. Incredibile al comunale perché tre minuti dopo il Chieti la mette in ghiaccio con il corner di Mariani. Sfiora Franchi che inganna Fanti e il pallone gonfia la rete per la seconda volta. I neroverdi vedono la D. Al quarantesimo Fabrizi per poco non trova il bis d'autore con una conclusione magnifica da 30 metri che per poco non spacca la traversa. Il Capistrello reagisce in avvio di ripresa ma la conclusione di Di Girolamo trova la traversa dopo la deviazione di Forti. Un minuto e prova Fantauzzi a rimettere galla ai suoi ma la sua mezza girata finisce sul fondo. Al ventesimo il punto che suggella i tre punti è la promozione del Chieti. Mariani in mezzo per Rodia che di piatto fa 3-0 e dà inizio alla festa. L'obiettivo è raggiunto, il Chieti ritorna in Serie D.